Bentornati amici in un mio nuovo video. Oggi parliamo di un prodotto dedicato specialmente al gaming. Stiamo parlando di questo pesantissimo portatile dell'Asus, o meglio il Rogue Strix Scar 17, adatto come vi ho detto per il gaming, ma non solo. Ma prima di andare a vedere nel dettaglio questo fantastico prodotto, ovviamente prima. Sigla! Ma prima di iniziare con il video, vi ricordo come di consueto di lasciare un bel mi piace qui sotto in descrizione, di iscrivervi al canale e attivare l'apposita campanellina per rimanere aggiornati su tutti i miei video. Bene, per quanto riguarda il design, è, come tutti i portatili da gaming, un prodotto molto consistente sia dal punto di vista dello spessore, perché guardate qua, è davvero tanto ma tanto spesso. E sia dal punto di vista del peso, è esagerato, quindi non è adatto prevalentemente alla portabilità. Ma proprio perché al suo interno ha determinati componenti che gli permettono di sfruttare al meglio le sue prestazioni dal punto di vista gaming. Ma prima di andare ad accenderlo e a vedere che cosa possiamo fare con questo magnifico notebook, analizziamo un attimo il suo design. È composto sul lato superiore, adesso non lo vedete ma ve lo farò vedere dopo, è presente il simbolo del ROG, dell'Asus ROG, che all'accensione del computer ovviamente si illuminerà. Poi sulla parte sinistra sono presenti tre porte, adesso non le vedrete mai, comunque tre porte USB di tipo 3.0 e il jack per le cuffie. Sulla parte posteriore invece è presente tacco Ethernet, l'HDMI, un'uscita USB-C che non però funge da ricarica del portatile e infine l'attacco per l'alimentatore proprietario. Sulla parte invece destra non è presente praticamente niente. Appunto come vi ho detto è un portatile davvero molto pesante, ma quando viene aperto si nota immediatamente il bellissimo display da 17 pollici purtroppo solo in full HD. Ma non disperate perché questo display riserva veramente delle grandi sorprese. Vi faccio anche vedere subito il fatto che essendo un portatile da gaming ovviamente la tarmarraggine non ci può che essere. Infatti come vi ho detto prima, se vedete qui il logo si sta illuminando a intermittenza. Sulla parte inferiore su tutto il bordo è presente un led sempre personalizzabile RGB e ovviamente la tastiera sarà illuminata RGB. Perché non ci può mancare in un portatile da gaming ovviamente. Abbiamo parlato prima del monitor. Il monitor è appunto un 17 pollici con una frequenza di 300 Hz che insieme alla fantastica RTX 2070 Super scheda grafica di Nvidia presente all'interno di questa bestia fa risultare il gioco, ma non solo il gioco, anche il video editing veramente un'altra dimensione. Perché dal punto di vista gaming sarà presente un gioco molto fluido. Perché grazie agli fps della scheda grafica in più ai 300 Hz di questo monitor sarà uno spettacolo giocare. All'interno a avvalorare il fatto che stiamo parlando di un portatile da altissime prestazioni sarà presente un processore i7 di decima generazione con 16 gigabyte di ram in supporto anche se qui per quanto riguarda l'editing siamo a livelli un po' bassi, cioè ce ne vorrebbero almeno 32, ma è espandibile quindi possiamo espanderla a noi successivamente. Inoltre è presente un hard disk da un tera. Questo per me è fondamentale visto la dimensione che hanno preso i giochi al giorno d'oggi. Che si parla da 80, 100 giga, meglio dai 60 ai 100 giga a gioco e quindi è ovvio che bisogna avere un'archiviazione che supporti la cosa. Non ci possono mettere 128 giga perché se no non ci starebbe neanche un videogioco a momenti. Poi per quanto riguarda il video editing io qua ho aperto un mio video in 4k a 60 fps ed è possibile tranquillamente avere alla risoluzione massima uno scrolling del video quasi perfetto. Ovviamente col fatto che ci sono solo 16 gigabyte di memoria potrebbe essere un po' limitante, però ripeto si possono ampliare. Poi per quanto riguarda il rendering abbiamo alte prestazioni perché ad aiutare tutto ciò è anche presente il raffreddamento a liquido è fatto per ovviamente per avere alte prestazioni nel gioco ma comunque anche nel video editing quando andiamo a renderizzare un qualcosa sarà di ottimo aiuto. Quindi altra caratteristica da sottolineare è proprio dal punto di vista delle performance il raffreddamento a liquido che aiuterà sia per quanto riguarda il video editing ma soprattutto per quanto riguarda il gaming. Ovviamente per quanto riguarda invece lo schermo vi faccio vedere qualche immagine tratta da youtube perché ripeto questo schermo è veramente fatto molto molto bene. Ad esempio prendiamo un video anche se non lo supporta però prendiamo un video 4k aspettiamo la solita pubblicità ma comunque se prendiamo un video 4k mettiamo la risoluzione massima che ovviamente va bene qua ci permette di selezionare il 2160 ma ripeto non è uno schermo 2160 non è 4k ma è solo 1920x1080 come potete vedere dalle immagini è veramente molto performante i colori sono belli definiti i neri altrettanto quindi è un piacere vederlo sia dal punto di vista gaming ma anche io l'ho usato anche molto in questo periodo visto che ero via per lavoro per l'utilizzo di netflix ed è un piacere guardare soprattutto perché si ha uno schermo veramente grande oltre che essere molto luminoso e definito. Quanto riguarda le prestazioni guardate io ho questo video qua e provo a fare il rendering di questo video e come potete vedere le prestazioni restano infatti io riesco a renderizzare tranquillamente questo video mettendolo in background e allo stesso tempo si hanno tranquillamente delle alte prestazioni quindi si può utilizzare normalmente passiamo alle note negative la tastiera è un'ottima tastiera il feed dei tasti è molto buono l'unica cosa bisogna prenderci un po la mano perché è full size quindi c'è anche il tasterino numerico per intenderci ma per il resto è davvero ottima il problema grosso secondo me di questo computer è il trackpad hanno messo un trackpad uno piccolissimo due che non legge perfettamente il dito e a volte si pianta poi non so se sia un problema di questo dispositivo ma comunque è un trackpad che non è molto in linea con il restante hardware del sistema guardate rispetto allo spazio vuoto hanno messo un trackpad veramente piccolissimo quindi asus per quanto riguarda questo trackpad io lo sistemerei un po di più ma è vero anche il fatto che questo è un computer da gaming ok il computer da gaming non viene assolutamente mai utilizzato con il trackpad viene utilizzato con dei mouse apposta per il gaming utilizzati all'esterno quindi ci può anche stare che non abbiano insistito molto sul trackpad però se io lo devo utilizzare per l'uso generico anche diciamo che il trackpad non è assolutamente all'altezza altra nota dolente secondo me è la batteria io l'ho addirittura caricato era carico quando è iniziato il video il video sta durando 16 minuti in 16 minuti dell'assenza dell'alimentazione il computer è già sceso del 10 per cento del 9 per cento come potete vedere qui è al 91 per cento quindi dal punto di vista della batteria non ci siamo per niente questo è vero anche che il computer non è un computer portatile cioè non ci metteremo mai secondo me a giocare in un bar con questo computer questo computer è un portatile che va postazione fissa essendo così grande non non è adatto come ho detto all'inizio per la portabilità perciò la batteria fondamentalmente durerà sì e no dalle 5 alle 6 6 ore anzi forse dalle 4 alle 5 ore poi è anche vero che questo è un sample per la stampa che è stato usato più volte quindi magari ha qualche problema a livello di batteria in sé resta il fatto che non mi ha soddisfatto dal punto di vista dell'autonomia che altro dire beh ovviamente all'interno del del sistema operativo sono già preinstallati tutti dei software di aso per gestire sia le prestazioni del computer sia la personalizzazione degli rgb sulla tastiera su il logo e nelle parti laterali del dispositivo perciò è molto adatto anche per la personalizzazione altro da dire non ne ho è un computer ottimo per giocare assolutamente ottimo per giocare non ha problemi di lag non rallenta con giochi anche di un certo tipo e quindi io lo consiglio se state cercando un computer di questo genere bene vi ho tenuti qui fin troppo io vi ringrazio di essere stati con me in questo video ovviamente vi chiedo di lasciare un bel mi piace qui sotto e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video